Stai con me, più o meno ci rivediamo a metà 60-70, starete con me e Samantha che è qui, piccolina però, ok, allora innanzitutto benvenuti a Piazza De Sanctris ben trovati, adesso siamo in Piazza Francesco De Sanctris possiamo dire la piazza principale del paese e alle vostre spalle abbiamo il municipio del paese dedicato a Francesco De Sanctris pochi anni dopo la sua morte il paese si chiamava Morripino fino al 1934 poi nel 1934 mutò il nome in Francesco De Sanctris, proprio in onore del grande critico letterario e politico che è nato a Morra appunto nel 1817 quindi adesso da questa piazza Francesco De Sanctris muoveremo verso il centro storico e visiteremo rapidamente la chiesa madre del paese il castello Pion di Morra con il museo archeologico il piccolo museo di memoria di Sanctrisiane e il palazzo Molinari quindi cominciamo ad avviarci in modo che facciamo spazio anche agli altri grazie a tutti grazie a tutti